Quella italiana è un'economia ferma, lo dicono tutti gli indicatori, tutte le statistiche. Come pensate di renderla più dinamica? Occorre liberare la crescita. Per liberare la crescita bisogna che intanto venga ridefinito il ruolo dello Stato e si liberano risorse dalla spesa corrente. Oggi gli investimenti sono bassissimi, lo Stato investe molto meno della media europea. Tutto va ad alimentare una spesa che spesso è inefficiente e spesso viene anche sperperata dalle amministrazioni pubbliche e locali. La prima cosa è che lo Stato deve fare la sua parte. Ai cittadini sono stati chiesti tanti sacrifici, sono state fatte pagare tante tasse per rimettere in sesso il bilancio dello Stato. Adesso è tempo che lo Stato faccia quello che deve fare, dimagrendo, uscendo da tanti settori dove ci deve essere più spazio per la concorrenza e il merito e facendo così crescere l'economia, l'economia privata, che è il vero motore dello sviluppo in tutto il mondo. Come pensate di superare le resistenze che tante corporazioni pongono sempre a questi progetti di riforma dello Stato? La prima cosa è a mio avviso portare gente nuova in Parlamento. L'Italia è come se fosse bloccata da un sistema che è corporativo e da una politica che è corporativa, che non riesce a costruire spazi di concorrenza perché in realtà vuole controllare i soldi pubblici, gestire i soldi pubblici. Questo per esempio è verissimo sui servizi pubblici locali che spesso sono servizi ai politici locali. Dunque anche qui la cosa importante è che lo Stato faccia un passo indietro per farne due in avanti. Vale a dire esca da tutte le aree in cui si deve creare sviluppo e concorrenza e dove deve essere il privato a gestire e come posso dire a far ripartire l'economia e invece presidi in maniera forte i settori dove i servizi sono importantissimi, la sanità, la scuola, la sicurezza. Ecco, credo che questo lavoro, il lavoro di ripensare lo Stato in maniera che sia più forte, più autorevole ma meno invasivo e soprattutto meno nella disponibilità della politica, sia il lavoro fondamentale. Per farlo occorre che ci siano persone nuove in Parlamento con delle competenze, con competenze diverse, con storie e culture diverse ma soprattutto in qualche modo che abbiano la mente fresca, che possano ripartire da zero, perché altrimenti non riusciremo a cambiare veramente nulla in questo Paese. A suo dire ci sono le condizioni per far sì che la pressione fiscale possa diminuire a partire dalla prossima legislatura? La pressione fiscale può diminuire a una sola condizione, che è la spesa venga ridotta, perché l'Italia ha un grandissimo debito e dunque non può permettersi di creare ulteriore disavanzo, cioè di creare ulteriore debito. L'unica cosa che può fare è riqualificare, ridurre la spesa, rindirizzarla verso settori che creano sviluppo e occupazione e non verso quelle aree di privilegio e anche di controllo della politica che non creano nulla e che non vanno a vantaggio dei cittadini. Senza una riqualificazione forte della spesa pubblica non ci sarà mai abbassamento delle tasse.